Fingeva di essere un militare americano di stanza in Siria e chiedeva alle proprie vittime conosciute online sui social network di inviargli ingenti somme di denaro per fantomatiche cause benefiche. Emmanuel Kwame Sarfo, 47 anni, ganese e residente a Pordenone, è stato rinviato a giudizio dal giudice per le indagini preliminari Monica Biasutti. L'accusa nei suoi confronti è quella di truffa con l'aggravante della minorata difesa in tema di truffa online. Il 47enne è stato identificato dal nucleo truffe online che il procuratore Raffaele Tito ha istituito nella sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri in procura. Tra il 2020 e 2021, infatti, l'uomo avrebbe incassato oltre 60.000 euro raggirando tre donne alle quali si presentava con diversi alias. Alla prima vittima ha chiesto la disponibilità di ricevere un pacco millantando l'appartenenza alla Croce Rossa Innocente, dicendo che la spedizione fosse bloccata. Situazione che poteva essere risolta solo tramite pagamento di 2.500 euro. Quando l'uomo ha chiesto un'ulteriore somma, la donna ha capito che si trattava di una truffa e si è rivolta alle forze dell'ordine. Ad un'altra vittima ha chiesto diversi prestiti, comunicando con lei via WhatsApp per un totale di ben 46.000 euro. Infine, dopo averla corteggiata promettendole di sposarla, l'uomo ha ottenuto da una terza persona dei buoni Amazon e bonifici per un totale di oltre 8.000 euro, prima che la donna si sospettisse e lo denunciasse. In attesa del processo, a Sarfo lo scorso luglio era già stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma.